Gentili telespettatori buona giornata. I governatori chiedono un incontro urgente al governo perché chiedono le zone rosse e arancioni solo per i non vaccinati. Dopo l'aumento dei contagi delle ultime ore che hanno soppassato i 10.000 al giorno alcuni presidenti di regione invocano il doppio binario con misure per i no green pass, i no vax e principalmente quindi per chi non si è vaccinato. Il presidente Totti della regione Liguria dice dobbiamo avere la certezza che le attività rimangano aperte perché per chi si è vaccinato. Quindi incontro urgente con il governo sul tavolo l'ipotesi di intervento sul green pass e di misure che valgano solo per chi non è vaccinato. Lo chiedono i governatori dopo l'aumento dei contagi e soprattutto la situazione degli ospedali dove continuano ad arrivare positivi. Nella maggior parte dei casi, dicono i presidenti di regione, sono persone che non hanno fatto il vaccino. In un momento in cui, dice Giovanni Totti, vicepresidente della conferenza delle regioni, i contagi stanno crescendo. È importante avviare in tempi rapidi, entro 72 ore, un confronto con il governo. In questo momento non è possibile mantenere un atteggiamento attendista, cioè non si può aspettare oltre. Bisogna anzi dettare norme chiare per affrontare questa fase della pandemia, tutelando la salute dei cittadini e consentendo all'economia di continuare la sua fase di crescita dopo aver attraversato una fase di grave crisi. In conferenza delle regioni ho chiesto che la zonizzazione del paese, quindi la divisione in zona gialla, arancione e rossa, valga soltanto per i non vaccinati. I vaccinati invece potranno continuare ad organizzare la propria vita, il lavoro, la socialità. Questo è il momento in cui si programmano le vacanze di Natale, tutta la macchina economica che vi gira intorno. Soprattutto a questi lavoratori dobbiamo dare la certezza che il paese non richiuderà, dice Giovanni Totti. La richiesta riguarda anche una nuova attuazione del Green Pass. Dice così che i numeri ci dicono che il 90% delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati e quindi in primis una questione di protezione delle persone, oltre che della ripartenza dell'economia e di una pressione ospedaliera. In questo momento in Italia c'è l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi pubblici, scuole, teatri, università, ristoranti, cinema eccetera, sul luogo di lavoro ma anche treni ad alta velocità, navi e aerei. Il Green Pass può essere ottenuto tramite la doppia vaccinazione, la guarigione dalla malattia e l'esito negativo di un tampone, che sia molecolare, antigenico, rapido, salivale e molecolare. Le regole non escludono chi non è vaccinato dalla vita sociale del paese. Già nelle ultime ore alcuni governatori hanno proposto di adottare un modello simile a quello tedesco delle 2G. Ecco, vaccinati e guariti possono accedere ad esempio sul posto di lavoro o nei locali pubblici. Quindi l'idea è quella di permettere l'entrata nei luoghi pubblici e sul lavoro solo per chi è vaccinato. Sul lavoro bisogna vedere perché anche in Austria per il lavoro utilizzano anche lì il tampone. Quindi ogni Stato ha le sue differenze. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, invece è contrario. Definisce un errore l'ipotesi di imporre il lockdown ai non vaccinati. L'applicazione del modello austriaco ha oggettivi limiti costituzionali, dice Zaia, presidente della regione Veneto. Resto un ottimista sul fatto che si debba investire di più sul dialogo vincendogli irriducibili a vaccinarsi. Comunque ogni decisione la prenderemo assieme fra governatori. Io credo personalmente che a questo punto chi è convinto è convinto e chi non è convinto non è convinto. Non c'è più il convincimento, bisogna convincere gli irriducibili. Non li convinci. Quelli che non si vogliono vaccinare non li convinci più. Hanno le loro idee e non li smuovi da quelle. Pertanto bisogna prendere atto che vaccinare il 100% della popolazione non lo puoi fare perché c'è sempre una parte che dice di no. E pertanto se il vaccino è obbligatorio è un conto, se non è obbligatorio cercare ancora di convincere non ha nessun senso perché non puoi convincere chi ha delle idee ben precise. Quindi a questo punto sapendo che la vaccinazione massima potrà essere forse vicino al 90%. Per il resto devi prenderne atto. Intanto vediamo che il segretario per esempio del Partito Democratico è a favore come i governatori, gran parte dei governatori per fare questa sorta di lockdown solo per i non vaccinati. Intanto diciamo che i dati italiani non sono paragonabili a quelli austriaci. Salvini condivide la linea dell'esecutivo, dice basta far paura agli italiani perché i dati non sono come quelli di altri paesi. Ad esempio poi ci sono altre notizie, per esempio Letta dice non possiamo permetterci un altro disastro, sono per la linea del rigore se non torniamo in lockdown. Dice non potremmo permetterci un altro disastro ed economico, serve rigore contro il virus, così Letta durante la presentazione del libro di Vespa. Dice io sono su questa linea la più rigorosa che ci possa essere se non si fa così. Fra qualche settimana torniamo in lockdown e poi sarà troppo tardi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale. Grazie a tutti e arrivederci. a tutti. Ricordatevi che su Tele Italia Seconda Rete ci sono, che è un altro canale qui su YouTube, ci sono video di politica ma non solo e poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora su Facebook, li trovate nella pagina Tele Italia. Arrivederci a tutti e grazie.